Sì, oggi sembra proprio una giornata perfetta. Niente può rovinarla. Ciao, Groovy Babe! Wow! Ragazze, che bello vedervi qui tutte insieme. Purtroppo devo darvi una notizia non bella. Oh-oh, non ti ho mai vista così. Non... calma. Beh, connettetevi ai vostri chakra. C'è un'emergenza a Queens. Cosa è successo? Il Queens... Sì? Il Queens... Gala! È stato cancellato quest'anno perché dovranno ristrutturare la location. No! 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 Ma che significa? Beh, ad ogni modo, sembra esausta. Secondo l'anello dell'umore, è sotto shock. Anch'io! E non so nemmeno che significa location. Quindi, niente Queens Gala quest'anno? Niente abiti eleganti! Niente red carpet! E niente ballo! Oh! So che è triste, ma prendiamo esempio dai gattini e andiamo a goderci un po' di sole sul tetto. Ci tirerà un po' su di morale. Ok! Su, avanti! Prendete esempio da loro! L'effetto del sole lo adorano! Anch'io! Sta funzionando! Il sole mette sempre tutti di buon umore! Oh! Ma certo! Perché non facciamo il Festival della Luce Solare? È inutile avvilirsi per il Queens Gala. Organizziamo un evento tutto nostro! Già me lo immagino! Sarà proprio come un gigantesco talent show! Il Festival della Luce Solare? Questa sì che è una grande idea! Sì! Un evento tutto nostro! Siamo le star giuste per farlo! Sarà splendido!